Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Clash of Clans Ragazzi oggi come vi avevo promesso nell'episodo 38 vi porto un video per parlare un pochettino del potenziale che hanno i TH7 Infatti in questo video andremo a vedere ben 4 villaggi TH7 che hanno raggiunto la Lega Titano Ebbene ragazzi prima di andare a vedere questi villaggi mostrare un pochettino come hanno fatto a raggiungere questi traguardi altissimi Come di consueto ormai andiamo a vedere le novità del nostro villaggio che veramente da tanto tempo non guardiamo E possiamo vedere che è diventato ormai un labirinto nero perché abbiamo quasi ultimato le mura all'otto Sono veramente tantissime rispetto all'ultimo video e abbiamo giusto gli angoli da fare come potete vedere Perché abbiamo circa un 48-49 mura da fare ne abbiamo fatte ben più di 200 E ragazzi veramente siamo a buon punto però finché non sono finite non cantiamo vittoria Ebbene questa cosa ha richiesto logicamente tutto l'oro a mia disposizione tranne un po' di oro che ho speso per il volanò No però il resto dell'oro che ho farmato in questi giorni è andato tutto esclusivamente in mura Però per quanto riguarda il laboratorio ovvero l'elisir Eravamo rimasti con il golem livello 3 che ha finito E siamo andati avanti un pochettino perché guardate qua abbiamo fatto il pecca livello 3 Il barbaro livello 6 che hanno impiegato rispettivamente 12 e 10 giorni quindi parliamo veramente di un bel po' di tempo ragazzi Perché più di 3 settimane di attesa per solo queste due truppe Poi siccome avevo sbloccato la fabbrica dell'incantesimo oscura ho pensato bene di farmi subito una pozione di veleno al 2 E anche perché costa solo i 25.000 e ce l'avevo proprio lì di elisir nero non sapevo cosa farmene E poi guardate un pochettino ho fatto un po' di fatica arrivare a 7 milioni ma mi son messo il drago al 4 Così finalmente con l'elisir abbiamo maxato tutto quello che riguarda l'abolatorio Per quanto riguarda il villaggio c'è ancora una cosettina ovvero questo E poi con l'elisir saremo posto Logicamente mancano ancora molte cose ragazzi perché ci mancano ancora un paio di difese e le mura Detto questo l'elisir nero l'ho speso per i reali principalmente L'ultima cosa che vi devo mostrare perché guardate un po' La regina è arrivata al 12 se non sbaglio nell'ultimo video era al 10 E il re barbaro ormai è al 14 e ben presto lo faremo al 15 dove potenzierà la sua abilità pugno di ferro E quindi diventerà abbastanza cazzuto Detto questo ragazzi vedete che veramente abbiamo fatto un bel po' di progressi per quanto riguarda le mura e il laboratorio E spero veramente di poter continuare così perché in questi giorni siamo andati veramente forte Il problema è che adesso dobbiamo continuare con le truppe nere che non sono altrettanto facili Adesso ho ancora 12 giorni d'attesa quindi posso farmarmi tutto il nero che voglio Però ragazzi adesso direi bando le ciance e cominciamo subito a vedere questi famosi TH7 Ho trovato questi 4 TH7 grazie a un clan chiamato Savage 7 Ebbene questo clan che è un clan livello 5 che conta pensate ben più di 35.000 trofei Veramente numeri altissimi Dispone di un sacco di membri tra cui 4 membri in titano Vari membri in campione e qualcuno in lega master Come avete sicuramente intuito e come avete anche magari capito dal livello Che si aggira dal 60 all'80 Questi ragazzi sono tutti TH7 Eh si ragazzi e la cosa sorprendente è che alcuni di questi Sono riusciti ad arrivare appunto in lega titano Una lega che comunque anche se c'è la lega leggenda che è una cosa ragazzi veramente irraggiungibile La lega titano per un TH7 è altrettanto difficile se non di più Adesso andrò a mostrarvi le loro formazioni per darvi un'idea di come si difendono i TH7 maxati In modo che magari se c'è qualche TH7 che mi guarda che vuole salire magari può prendere spunto E poi dopo vi mostrerò dei replay fatti dai nostri membri del clan Che hanno utilizzato la loro stessa tecnica di attacco ovvero il full draghi con furie E vedrete ragazzi che veramente è una cosa micidiale Perché ragazzi veramente la forza del TH7 Come avevo detto anche nel video di cosa potenziare prima su Crash of Clans Sta nei draghi sicuramente che combinate le furie che possono già arrivare al 4 con il TH7 Sono micidiali e con Re Barbaro che oltre a poterlo sbloccare con il TH7 Arriva subito al 5 quindi sblocca l'abilità E può fare un po' di percentuale anche a villaggi piuttosto forti Detto questo direi di andare subito a visitare il primo per vedere la sua formazione Eccola qua Come vedete in questa prima formazione Il nostro carissimo Homer Simpson come dice appunto il nome Ha utilizzato le mura nella maniera migliore possibile Infatti ha generato 4 strisce di mura che probabilmente conterranno anche delle trappole in mezzo Per difendere nella maniera migliore possibile il villaggio sulla parte alta Da logicamente attacchi di terra perché con un attacco aereo è molto facile riuscire a raggiungere il town hall dalla parte alta Però comunque stiamo parlando di TH7 che fanno formazioni per cercare di resistere a municipi molto più alti Si parla di municipi livello 9 o 10 perché anche se c'è questa cosa che nelle leghe campione O in qualsiasi altra lega un municipio bene o male debba trovare degli altri municipi dello stesso livello Dopo certe leghe se non c'è la gente ragazzi questi poveri TH7 per quanto siano avvantaggiati da questo aggiornamento Non possono fare altro E tra l'altro vediamo che adesso è sceso 4100 trofei perché comunque è molto facile perdere trofei Per questi poveri TH7 E beh passiamo subito al terzo ragazzi Qua cominciamo a vedere una formazione un po' diversa Che sfrutta ecco sfrutta il castello del clan Perché molte formazioni TH7 hanno il castello del clan che non si può collocare in una posizione Diciamo così centrale da non poterlo attivare dall'esterno Ebbene cosa si è studiato questo caro TH7? Ha posizionato tutte le risorse in basso come vedete anche gli estrattori sono strapieni Perché appunto contengono delle risorse che non possono essere prese Perché i depositi sono pieni tutto pieno ragazzi tutto maxato E come potete vedere cerca di attirare l'attacco dal basso mettendo in bella vista tutte queste risorse E vedete che il raggio del castello del clan si attiva solo quando le truppe cominciano ad andare verso il municipio Probabilmente qua ci saranno delle bombe giganti e delle tesla E ragazzi questo è quanto Cioè questo tipo di villaggio cerca appunto di attirare degli attacchi E probabilmente di chi magari farma con barbari e arcieri Perché c'è anche molta gente che è in lega alte Comunque continua ad utilizzare barbari e arcieri Detto questo passiamo al secondo Un altro membro abbastanza forte Dove cavolo sono andato a finire? Devo andare qui Ok Il secondo Tac Eccolo qua ragazzi il secondo Un'altra formazione molto particolare Che come vedete questa qua è già più chiusa come formazione Che però cerca anche qua di sfruttare al meglio tutto quello che si ha Come vedete i castelli del clan di questi membri sono sempre pieni di truppe In modo da poter cercare di contrastare con tutto quello che si ha Appunto una difesa da parte di un municipio più alto E infine ragazzi andiamo a vedere l'ultimo O meglio il primo Che è quello che ha raggiunto il risultato più alto Vediamo quanti trofei è arrivato Ben 4339 ragazzi Quindi veramente starà puntando la Titano 2 questo membro Ed è probabilmente il TH7 più forte che ci sia su Clash of Clans al momento Perché come potete vedere È veramente micidiale Guardate ragazzi ha questa formazione molto particolare Che secondo me è anche una buona formazione Potreste farla in molti Ve la metto così almeno se qualcuno vuole stoppare il video e copiarsela può E penso che veramente Il TH7 sotto molti aspetti sia veramente un buon municipio Già solo dal fatto che sblocca la seconda difesa aerea Quindi può già permettersi di difendersi sotto certi attacchi contro anche delle attacchi aeree Comunque ragazzi direi che detto questo Vi lascio al replay Fatto da i nostri membri del clan Che praticamente hanno utilizzato un full drag Le attacchi che vedremo in questo video sono tutti attacchi fatti con full drag Che hanno fatto 100% Possiamo vedere questo primo membro Che lo salutiamo si chiama Dani Che ha attaccato con full drag Un TH7 Come vedete non è completamente maxato Però è comunque a buon punto Notare che utilizza alcuni draghi sulla parte alta E alcuni sulla parte bassa Tende proprio a schiacciare il villaggio E le pozioni chiusa sono solo furie Come vedete come fanno anche questi villaggi che abbiamo visto poco fa in titano Perché comunque quello che si può utilizzare è sempre quello Anzi addirittura il nostro amico Dani È avvantaggiato perché dalle truppe del castello del clan Utilizza un drago livello 3 Quando il massimo che possono utilizzare questi ragazzi È il drago livello 2 Perché sono tutti TH7 Ad ogni modo il barbaro che utilizza è al 3 Non è al 5 Però comunque è direi un'ottima truppa Che comunque può dare una mano a far percentuale Detto questo ragazzi andiamo a vedere il secondo attacco Fatto questa volta da Edo Village Che ha attaccato un TH7 Bene o male è sempre messo uguale Sì non è particolarmente più forte Però sempre in full drag Anche qua corre barbaro non maxato Ed è riuscito anche lui a fare un 100% Notare che le difese aeree sono piuttosto vicine Quindi colpiranno molti i draghi Questo tipo di formazione che vedete È costituito da parecchie costruzioni fuori Tende a rallentare i draghi E a far sparare di più le difese Notare che qua escono le truppe del clan E butta due pozioni di furie insieme Tecnica molto carina Perché apparentemente vengono buttate le pozioni di furia Davanti ai draghi Non proprio al centro del gruppo di draghi In modo da darle più che altro velocità E con una terza pozione di furia Come avete visto ha spazzato via In me che non si dica Le due difese aeree che purtroppo erano troppo vicine Piccola pecca di questo villaggio E come vedete ragazzi Aiutandosi pure con il re barbaro Non fa per niente fatica a fare anche lui il 100% Detto questo andiamo a visitare il terzo attacco Che è stato fatto da Bob Si da Bob No da Bob Crash scusate Avevo detto male Bob Crash che ha attaccato anche lui Con i draghi livello 2 Questa volta si è aiutato con alcuni arcieri Questa è una cosa che viene utilizzata per le truppe del clan Ma in questo caso il nostro amico Bob Ha preferito utilizzarle per Diciamo Dare più percentuale all'inizio E poter fare un po' più di strada ai draghi Si è fatto donare delle mongolfere al 6 Inoltre vediamo che Bob È un TH8 Perché ha il barbaro livello 7 Bene Il bello di questa tecnica che stiamo vedendo ora È che anche quando voi passerete al TH8 Beh ammesso che non vogliate Farvi una scalata in campione Come hanno fatto questi membri del 7G7 Se appunto per caso voi passate al TH8 Potete comunque utilizzare questa tecnica Perché è molto forte E nel prossimo attacco Andremo a vedere che si può utilizzare Anche su TH8 Anzi addirittura un membro del clan È riuscito a fare 3 stelle Logicamente a un viaggio non maxato Ma che era un TH9 ragazzi Quindi disponeva di ben 4 difese aeree Ebbene qui il nostro caro amico Bob È riuscito a terminare l'attacco Con l'ausilio di una sola pozione Quindi veramente molto bravo Bob Andiamo quindi ora a visualizzare L'ultimo attacco Che è stato fatto questo TH8 Come vedete Ed sono stati utilizzati questa volta I draghi livello 3 Infatti è consigliato da parte mia Potenziare i draghi Perché logicamente il TH8 Può disporre del go wipe Però non in maniera immediata Perché richiede le caserme al 10 Le caserme nere al 4 E magari portare su un pochettino i golemi pecca Portare su i maghi al 5 E magari può essere dispendioso Non solo in termini di risorse Ma anche in termini di tempo Quindi una soluzione molto conveniente Può essere quella di farsi i draghi al 3 Che diventano molto forti E continuare col full draghi Ma al 3 Che come vedete Fanno veramente i macelli E anche se ci sono 3 difese aerea E il volano Riescono comunque a Proseguire con l'attacco E fare un 100% Come vedete Anche se comunque vedete Che fanno fatica ad avanzare E guardate Rimasta solo più un'ultima difesa aerea Con una furia ben piazzata Il nostro amico Luca Che anche qua saluto e ringrazio Perché appunto Ci ha permesso di filmare questo replay E appunto è riuscito A distruggire le difese aerea A questo punto Con il Barbaro Stavolta maxato al 10 Per TH8 Riesce facilmente A fare il 100% Anche se il Barbaro Era più che superfluo Detto questo ragazzi Io spero veramente Che il video vi sia piaciuto Come al sotto vi ringrazio Per tutti i mi piaci I commenti Le iscrizioni Che ci sono sempre Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi